Questo che non facciano entrare, non facciano la disinfettazione, le plate ci leggerano e ci sono, perché tutta quella legna che lei dice berlinato, quella che ci diverba, questa marisa, marisa, sa burrica, sa burrica, sa spagnola, sa spagnola, sa spagnola, sa spagnola. Eh, buono, lo so. Poi, putai se andavo via, te origini spagnolota, vi ha tutto breti, tutto buro e tutto rita, sa, ma vi ha tutta via, ma è una caranera dei 25 litros, de' Andaria. Non c'è pure? No, no, non ho visto la periodo. No, no, ma ne do. Ma la vogliamo, la voglia, la voglia, la voglia, la voglia, la voglia, la voglia, la voglia. La voglia, la voglia. Anche a noi qui in piazza. Come? In piazza, in piazza, all'anomista, girando con lui, a brazzetto, giretti. Ma riuscire a fare, ma se vuole da mia opinione, anche le blatte. Ma in tale blatte, le blatte ci sono, pizia, ne ha portato via, con tutto quello che mi hanno preso. Ma è una colatura. 16 cammi di scatolamene, immobili, dei frigorifili, se la passate. 16 cammi di scatolamene, immobili, dei frigorifili, se la passate. E mi ha detto, ehi, a me, 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 a me. Ma è a contendere, a me? A me, a me, a me, a me, a me, a me. Si, molto. E, no, lei è contendere. Io si, lei. Perché attestava il suo marito. Si. E la faccia? Ma c'è un marito. Si, e la mia, a me, a me, a me, a me. Ma si. No, ma ancora non l'ho visto io. Spero di no. E chi pensi era? A Miranda, sa, a per i zoma, con suo culo, perché era una vana in negra, di questi devoni, bravi, e fregola. E? A per i zoma. E dice che ce la fa pagare a tutti, che mette una bomba a piedi. E te la mette. E te la mette. Diggielo. 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 Ma lei è. Quando la vedi, se devi parlare, parla delle cose tue e non andare a portare le cose che succedono qui. Guai, eh. Guarda, non sto dicendo mai. Perché lei adesso non sapere che cosa stanno facendo, che cosa stanno facendo. Capito? Una volta salendo qui, la guardia, la guardia, c'è sotto la... No, no, solo la guardia. Però ce l'ha fatto tutte le sue... Adorello, io voglio che gentilmente manino una disinfettazione. Perché? Perché almeno... No, noi siamo contenti perché almeno c'è una persona pulita e non siamo in base anche delle blatte. E poi non vediamo... Perché quella signora... Sì. i comuni anziani che danno le 10 euro, le 20 euro e ne sforteranno a coperti. Ma questa è verente signora. Quanto è mia? Fra un 54 anni. Però questa si crei giovane. E' l'**** di posto. Si crei te di fraga e mushu mushu. Ma tra niente. Puta, è fragosa. O sa dove è fragosa. Questa è fragosa. Questa è fragosa. Questa è fragosa. Fraga è mushu mushu. Fraga è mushu mushu. Fraga è 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 sederno. Fraga è prendendo. Fai entrare sui zaboni, sotto il gratso degli animali. Quindi li lascio pensare sui bravi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.